Bellezza, audacia, visione. Ciò che rende unico il nostro paese è il desiderio di guardare più in là, la capacità di immaginare quello che ancora non c'è. Siamo pronti a dar vita a un grande progetto, ambizioso ed impatto. Il primo Digital Experience Center d'Italia. Nautaverso. Torniamo ad aprire i cancelli di un'area in stato di degrado e abbandono, con l'obiettivo di ricucire il tessuto urbano, valorizzando e rigenerando un luogo di grande rilevanza storica a Trieste. L'area che circonda l'antica lanterna, oggi chiusa al pubblico, verrà trasformata in un elemento pulsante di innovazione, incontro e socialità. Uno spazio aperto a tutti, di libera aggregazione per i cittadini e di grande attrazione per il turismo internazionale. Un grande piano di sviluppo e rigenerazione urbana. Un'area multifunzionale fondata sui principi della digitalizzazione, dell'innovazione e della sostenibilità. Un complesso di edifici altamente tecnologici e versatili, alimentati in modo sostenibile, con numerosi negozi e ristoranti, che offriranno esperienze esclusive di shopping, buona cucina e intrattenimento. Un luogo facilmente raggiungibile di incontro e scambio, con nuovi spazi dove passare insieme del tempo di qualità. La luce tornerà a splendere nell'antica lanterna, illuminando un nuovo spazio in cui incontrarsi e crescere. Moderna e attrattiva, la nuova marina sarà dotata di servizi più moderni e si baserà sui principi della sostenibilità, rispondendo all'evoluzione del turismo nautico. Il nuovo punto di riferimento dell'innovazione tecnologica offrirà esperienze immersive senza precedenti. Potremo tornare alla notte dei tempi, osservare i movimenti delle prime forme di vita, sentire il rumore dei passi dei dinosauri, entrare nelle opere d'arte, partire per un viaggio avventuroso ai confini dell'universo. Il Digital Experience Center si svilupperà in ben 4.700 metri quadrati di ambienti digitali in cui i visitatori potranno muoversi e interagire liberamente. Il mondo fisico e il mondo digitale si fondono e spalancano le porte ad una dimensione nuova dove divertirsi, imparare, emozionarsi. Esperienze virtuali coinvolgenti permetteranno di esplorare infiniti contenuti in un modo che nessuno avrebbe mai creduto possibile. Giganteschi schermi interattivi, simulatori tattili e olfattivi, sensori di movimento. La realtà aumentata trasformerà i visitatori di tutte le età in protagonisti di avventure indimenticabili. Ogni passo in questo mondo immersivo sarà una scoperta. Intrattenimento educativo per conoscere e rispettare la natura. Viaggi nel tempo, esplorazioni iperrealistiche del nostro pianeta, arte, musica, scienza. Si scenderà a fondo, sempre più giù, fino a toccare i punti più profondi del mare e indagando i misteri della scienza alla scoperta di antichi segreti e nuove prospettive. L'Italia è pronta a spalancare le porte di un nuovo polo digitale dove i confini della realtà saranno in continua evoluzione. Nautaverso Digital Experience Center